Allora, buonasera a tutti, grazie per il nostro release party di questo cazzo singolo che siamo riusciti a tirare fuori. Eccolo il disco, il disco è qui! Il singolo nostro! E adesso, no, muovere un tema al culo. Allora, buonasera a tutti, grazie per la visione! Eccolo il disco, il disco è molto importante. Sì, sì! Sì, 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 sì! Sì... Alla prossima! La prossima, io ho detto che è Nelsinfo. 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 La prossima, io ho detto. 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 La prossima, io ho detto.